Musica Ben trovati alla seconda edizione di GNews, apriamo il nostro TG con la cronaca, fermato il presunto piromane responsabile dei roghi degli ultimi due giorni nel territorio del comune di Cortino. L'uomo, un ciclista teramano di 47 anni, è stato fermato dalle pattuglie del nucleo operativo speciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo durante un controllo mirato tra Fonte Palumbo, la Madonnina sulla strada per Cortino e il cimitero di Cortino. L'area era stata già oggetto di due principi di incendio domati dai vigili del fuoco, a far scattare i controlli della forestale una segnalazione al numero di emergenza ambientale. Il ciclista, intercettato dagli uomini della forestale, ha assunto un atteggiamento sospetto e non è riuscito a giustificare il possesso di materiali e dispositivi per l'accensione rapida di fuochi. Inoltre, sono state raccolte testimonianze in base alle quali la stessa bicicletta del fermato sarebbe stata presente nei pressi del cimitero di Cortino poco prima che nella stessa zona si sviluppasse il terzo rogo della giornata, subito, segnalato e successivamente spento dai forestali. Dalle prime indagini, inoltre, numerose sembrano essere le coincidenze dei roghi di ieri segnalati nel piccolo comune montano con quelli che negli ultimi anni hanno funestato i territori del capoluogo di provincia di Torricella Sicura, Cortino e Rocca Santa Maria, tutte circostanze al vaglio degli inquirenti e che saranno sottoposte all'attenzione della magistratura. Il ciclista, intanto, è stato deferito all'autorità giudiziaria di Teramo per il reato di incendio boschivo doloso. E dopo la notizia che in provincia di Teramo gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di un soggetto indiziato di aver innescato alcuni incendi, continua la lotta nel salvaguardare l'ambiente e addomare le fiamme, tra gli incendi di una certa importanza nell'arco della giornata nella regione. Nel primo pomeriggio le fiamme hanno interessato il comune di Capestrano, bruciando circa sei ettari di aria cespugliata e macchia mediterranea non boscata. Sul posto è intervenuto il nucleo operativo speciale dell'Aquila con sei forestali, con il mezzo antincendio domando le fiamme nel tardo pomeriggio. L'intervento immediato delle squadre antincendio forestale, vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno evitato che le fiamme interessassero le abitazioni presenti. Un malore è stato fatale questa mattina ad una donna di 73 anni, annegata in mare tra le spiagge di Torretta e Palombina, all'altezza della casa di riposo Anni Azzurri. Dopo la segnalazione arrivata poco dopo le 10, sono intervenuti con un'ambulanza ai sanitari del 118, ma hanno solo potuto constatare il decesso dell'anziana. Perde il controllo della sua Peugeot e si schianta contro un albero. Anche se è rimasto cosciente, sono gravi le condizioni di un 28enne dopo l'incidente avvenuto lungo la strada provinciale orcianese, verso Pesaro. Stava tornando verso casa quando, pochi minuti dopo le 7.30, probabilmente per un colpo di sonno, si è andato a schiantare contro un albero sul posto, prima i vigili del fuoco di Fano, i sanitari del 118 e la polizia stradale, quindi è intervenuta l'eleambulanza che l'ha condotta all'ospedale regionale di Torrette. E ancora un incidente sulle strade di Porto San Giorgio. La giornata di ieri, macchiata da sinistri a raffica in città, si è chiusa con uno schianto sulla statale adriatica. Un giovane, infatti, mentre era alla guida del suo scooter Scarabeo 200 alle ore 21, si è scontrato violentemente con un'auto d'epoca conosciuta come Spiaggina. Al volante dell'auto rossa, un ventenne residente a Porto San Giorgio. Il violento impatto è avvenuto lungo la strada adriatica nord all'incorocio con via Nibbi. A riportare la peggio è stato il giovane Centauro. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale, anche se non sembra aver riportato gravi lesioni. E nella zona portuale della Zipa di Ancona, i militari del locale reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza hanno sequestrato un'area di vita a deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Ve ne erano circa 400, tra cui materiale elettronico e pannelli in Ethernet in avanzato stato friabile. I finanzieri, guidati dal neocomandante il maggior Giovanni Dell'Anno, hanno allertato il Comune che ha inviato i propri tecnici per attivare le procedure di rimozione e smaltimento. E' sfiorata la tragedia in mare a Sassonia, un uomo di circa 60 anni ha perso i sensi durante un lancio con il paracadute ed è stato salvato dal pronto intervento di due surfisti. E' successo intorno alle 12.30. Due surfisti di Fano si sono accorti di un paracadute aperto che scendeva a forte velocità, attenuata in parte dall'aquilone aperto, quindi che l'uomo aveva il viso rivolto verso il basso. I due, dopo l'impatto accortisi che l'uomo non stava affatto bene, si sono immediatamente avvicinati e scesi in acqua l'hanno sorretto evitando che annegasse. I surfisti sono riusciti a mantenere a galla l'uomo caduto di schiena, determinante l'intervento tempestivo dei due che ha evitato il peggio. Il paracadutista poi è stato subito trasportato al pronto soccorso di Fano grazie all'ambulanza già presente in spiaggia. Dopo 13 giorni in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto morto Luciano Di Monte, il pensionato di 64 anni, scomparso da casa il 31 luglio scorso. E il giorno dopo il ritrovamento due comunità, Corropoli dove l'uomo abitava e Controguerra, che il pensionato frequentava abitualmente, sono ancora profondamente scosse. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un vecchio casolare in via Granzasso, usato come deposito di attrezzi agricoli. Sul posto sono arrivati il capitano della compagnia di albadriatica, Raffaele Iacuzio, il sostituto procuratore della Repubblica di Teramo, Bruno Auriemma, e l'anatomo patologo Giuseppe Sciara, che ha effettuato la ricognizione cadaverica. Non sembrano esserci dubbi sulle cause del decesso, visto che è stata rinvenuta una corda, segno di un possibile suicidio. L'allarme è stato dato da un vicino che, sentendo un odore nauseabondo provenire dal casolare, ha fatto la tragica scoperta. In ogni caso, il sostituto procuratore Bruno Auriemma ha disposto l'autopsia per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Da una prima analisi, la morte risalirebbe al giorno della scomparsa. L'alta temperatura di questi giorni ha reso quasi irriconoscibile il corpo del 64enne di Monte, divorziato, avrebbe scelto di togliersi la vita a pochi metri dalla sua abitazione, nell'ex aia di proprietà della famiglia. La salma, intanto, è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Santomero. L'esame autoptico effettuato all'ospedale di Santomero ha confermato l'ipotesi di suicidio. Il pensionato si è tolto la vita impiccandosi il 1 agosto. Tre nigeriani sono stati arrestati oggi all'alba dai carabinieri del radiomobile e della compagnia di Teramo con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I tre che vivono in un condominio nel quartiere Gammarana a Teramo hanno dato origine ad una rissa durante la quale uno degli stranieri è stato ferito con il tubo di scarico di un lavabo ed ha avuto una prognosi di 21 giorni. Alla vista dei carabinieri, improvvisamente, i tre che avevano letteralmente distrutto casa ed erano tutti visibilmente feriti, hanno fatto finta che nulla era successo ed hanno iniziato ad ostacolare il lavoro dei carabinieri che per questo hanno arrestato i tre extracomunitari per loro processo per direttissima. Quattro minorenni sono stati denunciati dai carabinieri della procura minorile per aver danneggiato e scaraventato dall'alto alcune sedie tra cui un'antica in legno durante le feste medievali a Fagna in piazza del Maniero. L'episodio risale alla notte del 27 luglio scorso. Gli oggetti di proprietà del comune avevano sfiorato alcuni passanti e solo per caso non avevano provocato ulteriori danni. Si tratta di un quindicenne, due sedicenni e un ragazzo di 17 anni. Si finge turista e poi sottrae marsupio e occhiali ad un turista che si era allontanato dall'ombrellone per fare il bagno. Lo hanno scoperto i carabinieri a Marcelli di Numana, l'uomo badante tedesco di 48 anni residente a Numana è stato arrestato in flagranza per furto aggravato. Il marsupio si trovava dentro uno zaneo nascosto sotto ad uno sdraio coperto da un vestito e conteneva occhiali Ray-Ban da 300 euro, documenti contanti e uno smartphone. E ci spostiamo a Roseto. Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, ha dato ordine al comandante della Polizia Municipale, Berardo De Miglio, di intensificare in collaborazione con gli agenti dell'Istituto di Vigilanza Privata Metropolis Security i controlli su tutto il litorale rosetano in questi giorni a cavallo delle festività di Ferragosto. Questo al fine di combattere il commercio ambulante abusivo sulle spiagge di tutto il territorio comunale e tutelare i commercianti regolari, il decoro del litorale rosetano e la tranquillità dei villeggianti stessi. E cambiamo argomento. Non si riesce a risolvere la questione stadio a San Benedetto del Tronto. L'esponente di Forza Italia, Pasqualino Piunti, accusa l'amministrazione Gaspari di staticità e di non aver prodotto nessuna novità fino a questo punto. Vediamo il servizio di Cristiano Pietropaolo e Vincenzo Ingiulla. La commissione stadio e la sezione Stallo. Quali sono sviluppi in futuro? A breve? Speriamo in sviluppi ma non ci crediamo perché in tempi non sospetti avevamo detto che questa richiesta fatta dal sindaco di istituire una commissione di inchiesta o di indagine come si voglia chiamare era solamente la foglia di Fico per coprire le evidenti mancanze da parte dell'amministrazione comunale e con delle responsabilità probabilmente uso il condizionale per non accelerare i tempi anche da parte dei settori. Insomma, noi dopo un anno ci troviamo con una commissione che ha prodotto una relazione motivata, articolata di oltre 40 pagine e che viene disattesa o cercano di disattenderla quelli della maggioranza. Allora, si voleva fare chiarezza veramente oppure si voleva far vedere che non si aveva nulla da nascondere e contestualmente poi lavorare per far implodere la commissione stessa. Non vorrei ritornare al pensiero craxiano che diceva se vuoi insabbiare qualcosa crea una commissione ad hoc. Io non penso di ritornare dalla Prima Repubblica, però il percorso di questa maggioranza che a ogni pieso spinto trova una scusa per non legittimare un lavoro certosino da parte della commissione stessa comunque e che non ha prodotto un minimo di contributo perché il lavoro è aperto anche a contributi da parte della maggioranza la dice lunga sulla volontà di fare chiarezza su una situazione che ha portato secondo noi secondo me, secondo noi anche alla retrocessione dell'assemblea delle tese perché il rettore dell'Università degli Studi di Teramo Luciano D'Amico è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di ARPA-SPA la società di trasporti la cui quota maggioritaria è dell'ente Regione D'Amico succede a Massimo Cirulli di Missionario in carica dal giugno 2012 la decisione è stata presa nel pomeriggio dall'Assemblea dei Soci su proposta del presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso è la prima volta ha dichiarato D'Alfonso che la scelta cade su una personalità dall'alto profilo culturale e professionale e non per ragioni di appartenenza partitica presente alla riunione che ha approvato anche il bilancio consultivo il consigliere delegato Camillo D'Alessandro il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro dopo la nomina di Luigi Ragni alla presidenza della speciale commissione consigliare per la sanità chiede che la commissione stessa venga convocata non nella tradizionale sede istituzionale ma in ospedale in occasione della venuta a settembre del governatore Luciano D'Alfonso e dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci intanto formulo gli auguri di buon lavoro al consigliere Ragni che ha di fronte un lavoro delicato e molto impegnativo la commissione sanità che valdi fortemente nel 2009 per affrontare questioni vitalissime per i cittadini come è noto è stata per anni paralizzata da politici che hanno fatto mortificato il ruolo e l'azione ora quelle questioni non esistono più e quindi la commissione nelle condizioni di operare al meglio per cui chiederò al presidente Ragni e dichiara ancora il sindaco Francesco Mastromauro di convocare la commissione in un luogo diverso da quello istituzionale esattamente nel nostro ospedale e andiamo a San Benedetto sono nuovamente balneabili le acque marine antistanti la foce del torrente Albula l'ARPAM ha comunicato l'esito dei nuovi prelievi effettuati in data 9 agosto dai quali risulta che i valori degli inquinanti sono rientrati nei limiti di legge su proposta dello stesso organo di tutela sanitaria dunque il sindaco Giovanni Gaspari ha firmato l'ordinanza che revoca il precedente provvedimento di divieto di balneazione alla foce del torrente emesso il 29 luglio scorso precisare come si è spesa la risorsa tempo nei primi 60 giorni di mandato dal momento della proclamazione avvenuta il 13 giugno fino ad oggi ha motivato così il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso la conferenza stampa tenuta stamani a Pescara noi abbiamo una forma potente di antipatia per le letterine che camminano e circunnavigano gli uffici della regione quindi stoppa le letterine interne vogliamo una regione non più introversa una regione funzione dell'economia della cultura e della società una regione insomma che si fa legittimare dei risultati che raggiungono il primo obiettivo era la sangritana e poi adesso si parla invece della pista ciclabile che deve essere la più importante d'Italia non d'Abruzzo e quindi anche qui un grande disegno un disegno che abbiamo ereditato dalla passata legislatura che noi abbiamo incrementato per fare in modo che sia certa la realizzazione adeguando anche la copertura finanziaria precisando il cronoprogramma e facendo in modo che in un tempo prevedibile di qui ai primi del 2015 si comincino a vedere i dati cartacei dell'impresa contraente per poter vedere le tute degli operai sporche di cemento il cemento della realizzazione Renzi mi ha detto in occasione della mia partecipazione al Consiglio dei Ministri durante la nomina a commissario per la sanità a mia precisa richiesta mi ha detto che sarebbe venuto lui e Del Rio ai primi di settembre il 4 di settembre viene Luca Lotti che è sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri con il quale con i quali noi affronteremo tre questioni l'ulteriore accelerazione per la ricostruzione dell'Aquila poi la qualità dei nostri fiumi che deve diventare bersaglio di procedure speciali straordinarie perché noi dobbiamo ripulire i nostri fiumi per ripulire il nostro mare terzo fare in modo che l'Abruzzo ed il Molise rientrino nel dossier dell'alta velocità ferroviaria sono 20 anni che noi siamo stati scavalcati da tutti i dossier decisionali ferroviari è arrivato il momento di rientrarci da protagonisti faremo pesare il 6 mese di presidenza italiana dell'Europa il fatto che Chiamparino adesso presiede la conferenza Stato-Regioni e guarda con simpatia l'Abruzzo e anche che siamo vogliosi e determinati nel fare i dossier ma intanto per la prima volta l'Abruzzo si doterà di un DPFR entro agosto e lo approverà entro settembre e poi su questo si scateni il dialogo competitivo con la società abruzzese con gli imprenditori i sindacati gli studenti i cassi integrati coloro i quali vivono il dolore il progetto le forze politiche di opposizione in maniera tale da arrivare alla legge di stabilità finanziaria a dicembre con la maturità di un lavoro fatto a monte noi dobbiamo rimettere a posto le rotative erano saltate le rotative del processo programmatorio è chiaro che poi ognuno voleva prendere per sé tutto quello che capitava non fidandosi di una programmazione che non c'era questa è la metrica della correttezza decisionale rimaniamo in Abruzzo l'opposizione preannuncia battaglia sulla legge di riforma della macchina amministrativa non gradita affatto soprattutto dall'ex governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi come avevo previsto la politica degli annunci è finita ed ora restano da pagare le cambiali elettorali sembrava ieri che il presidente D'Alfonso nelle piazze gridava alla regione facile e veloce che avrebbe realizzato una struttura amministrativa efficiente ed affidabile con una riduzione del numero delle posizioni dirigenziali ma poi come accade generalmente in politica i programmi restano solo belle parole della campagna elettorale lo afferma Gianni Chiodi consigliere regionale di Forza Italia in riferimento alla legge di riforma della macchina amministrativa regionale che sarà discussa in aula domani e già si annuncia battaglia da parte delle opposizioni sembrava ieri prosegue Chiodi che l'assessore Paolucci quando era segretario del partito democratico affermava che il numero dei dirigenti regionali andava limitato all'essenziale per farne dei veri e propri manager che era necessario eliminare quella zona grigia di contatto fra la politica e i dirigenti e mi diceva che avevo proposto solo spot e annunci ora invece continua Chiodi mi sembra che la riforma della macchina amministrativa che andremo a discutere domani in consiglio regionale è stata preparata dai suoi uffici sotto la sua supervisione e si parla di dirigenti aumentati promozione di dipendenti senza concorso e commissari realizzatori con poteri limitati nominati dalla stessa politica ma lo sconcerto maggiore prosegue Chiodi mi arriva dal silenzio dei sindacati della CGL Funzione Pubblica in primis che mi ha attaccato più volte in questi anni ritenendo assolutamente necessario snellire il numero dei dirigenti regionali questo silenzio nei riguardi della nuova amministrazione che vuole addirittura aumentare i dirigenti in numero maggiore rispetto a quelli che ho trovato io gli toglie ogni forma di credibilità alla fine sui fondi alle istituzioni culturali avevamo ragione noi e non il consigliere Camillo D'Alessandro tanto che il suo emendamento sul fondo unico per la cultura è stato ritirato dalla proposta di variazione di bilancio lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo in apertura dei lavori della commissione bilancio convocata oggi pomeriggio all'emiciclo tutto resta come previsto dal precedente governo regionale continua Febbo e dunque il teatro Maruccino di Chieti il teatro stabile d'Abruzzo l'istituzione sinfonica abruzzese il liceo musicale Braga di Teramo riceveranno i fondi già stanziati nei rispettivi capitoli di bilancio che non verranno quindi unificati da Alessandro primo firmatario dell'emendamento sulla variazione di bilancio solo ieri aveva detto che quelle somme non potevano essere erogate e che andavano previste procedure diverse così invece non era e il lavoro d'opposizione portato avanti da Forza Italia questo grande risultato sono molto soddisfatto anche perché c'era il rischio concreto di creare enormi difficoltà a questi enti che avevano già programmato le attività per la prossima stagione un incontro urgente con i rappresentanti dell'ordine dei giornalisti e del sindacato dei giornalisti abruzzesi per proporre gli stati generali dell'informazione in Abruzzo il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio raccoglie l'appello di questa mattina delle organizzazioni di categoria dei giornalisti che hanno lanciato l'allarme sull'evoluzione delle vertenze che riguardano i quotidiani il tempo e il messaggero ordine e sindacato avevano chiesto un intervento deciso e urgente delle istituzioni a difesa del futuro delle due testate il tempo prima e il messaggero qualche anno dopo sottolinea Di Pangrazio hanno contribuito in questi decenni alla costruzione dell'Abruzzo e dell'indennità unitaria degli abruzzesi non dimentichiamo che negli anni 60 all'Aquila nessuno aveva la possibilità di leggere cosa accadeva sulla costa e a Pescara succedeva lo stesso per quanto riguarda le aree interne firmato l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per 87 dipendenti della Plalam di Ascoli Piceno oltre agli 87 operai dello stabilimento Ascolano la cassa integrazione interesserà anche 14 dipendenti del sito milanese vediamo firmato l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per 87 dipendenti della Plalam di Ascoli Piceno l'intesa è arrivata a termine di un incontro al Ministero del Lavoro con i commissari giudiziali nominati a seguito dell'accoglimento del concordato da parte del giudice del Tribunale di Milano oltre agli 87 operai dello stabilimento Ascolano la procedura di cassa integrazione straordinaria interesserà anche 14 dipendenti del sito milanese con decorrenza 28 luglio 2014 e per un anno a fine mese poi ci sarà un nuovo incontro in Confindustria per l'avvio della mobilità finalmente una buona notizia pur nella drammaticità della situazione per i lavoratori Plalam che giorni fa dopo interi mesi senza retribuzione hanno deciso di far sentire la loro voce dando vita a un presidio davanti all'azienda di Campolungo in quattro poi sono saliti sulla torretta dell'azienda per dare risalto alla protesta sono riusciti quindi a strappare un incontro con il patron Robbiati ad Ascoli alla presenza del prefetto e del sindaco e successivamente con i commissari giudiziali ai quali è stato chiesto un impegno immediato per la richiesta di cassa integrazione straordinaria notizie positive sul fronte occupazione relativamente al sito Ascolano della Trevalli alcuni lavoratori hanno infatti deciso di seguire la strategia aziendale siglando l'accordo che prevede il loro spostamento presso la sede di Iesi strada che la Trevalli conferma di voler percorrere nessun dipendente verrà lasciato a casa dice la dirigenza stiamo lavorando anche in questi giorni di ferragosto proprio per garantire a tutti il mantenimento dell'occupazione nel polo principale di Iesi a partire da settembre in questi giorni verranno infatti inviate le comunicazioni ufficiali della proposta di trasferimento ai dipendenti con molti dei quali si stanno già finalizzando intese analoghe a quella già siglata con la firma dei primi accordi continua la direzione abbiamo avuto la consapevolezza del fatto che i nostri collaboratori preme soprattutto una cosa la garanzia del lavoro e questo è anche il nostro primo obiettivo un prolungato blackout telefonico ha paralizzato questa mattina buona parte della Val Vibrata partendo dal litorale Martinsicuro al Badriatica a Tortoreto e fino a Giulianova e alcuni dei territori dell'entroterra il problema ha interessato la telefonia fissa e una serie di attività commerciali ma anche enti e strutture del territorio hanno avuto oggettive difficoltà per sbrigare le pratiche quotidiane e compensare il temporaneo di servizio il tutto è stato generato da un guasto che poi è stato risolto alle 12 quando i telefoni sono tornati a squillare ritardi nei lavori del Palace di Civitanova Marche che dovrebbe ospitare la Lube Banca Marche ma il primo cittadino rassicura società e tifosi sul campionato che prenderà il via nel palazzetto come d'accordi la Lube Banca Marche ha Civitanova al nuovo Palace ma i tempi non sono quelli che si erano previsti infatti durante l'ultimo consiglio comunale non di poca difficoltà è stato stabilito che i tempi saranno diversi ma il sindaco il primo cittadino di Civitanova Marche Claudio Corvatta rassicura sul fatto che il 14 ottobre il campionato di pallavolo della Lube Banca Marche partirà proprio da Civitanova il 15 ottobre prima giornata in casa prima partita in casa della Lube la Lube potrà giocare qui a Civitanova non sono previsti problemi non sono previsti ritardi abbiamo in qualche modo interceduto tra le vari vicissitudini delle banche perché in maniera che Banca Marche potesse favorire il finanziamento definitivo in attesa di quello del credito sportivo siamo tranquilli il termine del 31 agosto improrogabile se dal punto di vista formale non sarà rispettato in quanto il credito sportivo pur avendo concesso in mutuo prevede un ulteriore passaggio in tribunale che ritarderà l'erogazione reale del mutuo stesso con l'intercessione di Banca Marche con la volontà del Consiglio Comunale che è stata espressa riusciremo comunque a far fronte al finanziamento necessario perché il palazzetto venga finito appunto non per il 31 agosto ma per il 15 ottobre l'importanza di ospitare questo campionato anche in un momento difficilissimo in cui versa appunto l'istituto di credito Banca Marche nasce dall'esigenza di dare nuova visibilità alla città che attraverso lo sport si veicola e cercherà di far parlare di sé in un anno Civitanova avrà una struttura che diventerà un'occasione per i concerti un'occasione per la convegnistica un'occasione per tutte quelle grandi eventi e grandi manifestazioni che oggettivamente danno a questa realtà quello che mancava la dimensione di una città metropolitana credo che in questo modo si possa invece dare un aiuto concreto alla ripresa delle attività economiche Civitanovesi sia quelle piccole e sia anche quelle medie se ci sarà più serenità e un clima nazionale migliore sarà anche quello che alla fine la gente riuscirà a comprendere dell'amministrazione in carica Nella seduta della giunta complessiva di oggi l'Unione dei Comuni città territorio Val Vibrata ha ufficializzato l'insediamento del neopresidente Leandro Pollastrelli eletto nella seduta del 31 luglio con un ampio consenso di tutti i colleghi così come si era verificato per il presidente uscente Umberto D'Annuntis il presidente Leandro Pollastrelli sindaco di Colonnella ha avuto modo di delineare i punti della sua agenda programmatica nell'ambito del suo mandato ribadendo con forza l'importanza del cambio generazionale che è avvenuto nell'ambito del consenso dei sindaci e ha dichiarato nei prossimi due anni ci attendono delle grosse trasformazioni sotto il profilo organizzativo dell'Unione dei Comuni in particolare gli accorpamenti dei servizi la centrale unica di committenza e la stazione unica appaltante e andiamo a Teramo la giunta comunale ha rimodulato le tabelle già approvate per il servizio di trasporto scolastico ravvisando la necessità di ampliare il numero delle fasce di reddito ISE in equivalenza di quelle già da tempo adottate per i servizi di asilo nido la decisione è stata effettuata sulla base delle considerazioni inerenti le condizioni socio-economiche del territorio per giungere ad una classificazione delle tariffe che vada incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica finanziaria che sta investendo il paese il sindaco di Roseto degli Abruzzi Ennio Pavone e l'amministrazione comunale smentiscono le voci circolanti in città circa la non effettuazione dei tradizionali fuochi d'artificio di Ferragosto anche quest'anno la tradizione verrà mantenuta grazie all'impegno diretto dell'amministrazione comunale dell'associazione insieme per San Giovanni e degli operatori turistici e commerciali che insieme alla partecipazione del comitato costituiscono dalla parrocchia Maria Santissima Assunta hanno reso possibile il tradizionale evento l'amministrazione comunale informa anche che è attivo fino al prossimo 7 settembre il servizio di bus navetta gratuito che collega il borgo di Monte Pagano con la città di Roseto degli Abruzzi e viceversa domani gli uffici comunali di Giulianova resteranno chiusi nel pomeriggio sabato 16 agosto informa il comune saranno chiusi al pubblico anche gli uffici anagrafe e stato civile il 16 agosto invece resterà chiusa anche la biblioteca Vincenzo Bindi al via la 45esima sagra di Torano Nuovo in programma dal 12 al 17 agosto in un tripudio di gente suoni colori e sapori si è infatti inaugurata la sagra più prestigiosa d'Abruzzo nel suggestivo paese del gusto nel corso del nostro telegiornale vi proporremo anche una cartolina musicale sulla prima serata consumata ieri sera è partita la 45esima edizione della sagra del vino della salsiccia dei maccheroni e del formaggio fritto di Torano Nuovo nel rispetto della tradizione dal 12 al 17 agosto nel suggestivo scenario del paese del gusto al via la sagra più antica d'Abruzzo 5.000 posti a sedere 500 le risorse coinvolte circa 80.000 presenze fanno della manifestazione agostana una delle vetrine enogastronomiche di maggior pregio dell'intera regione Abruzzo e del centro Italia l'organizzazione come sempre affidata alla locale Proloco la sagra si è opera della Proloco della Proloco attuale e delle Proloco passate che si sono impegnate nel corso degli anni a mantenere alta la qualità dei prodotti somministrati a Torano dei servizi nel corso degli anni la sagra di Torano è stata forse l'unica delle sagre che è riuscita a mantenere quella che è la sua tradizione dei suoi prodotti infatti a Torano si assaggia sempre solo il formaggio fritto le salsicce il vino i maccheroni poi ci sono altri prodotti di contorno preparati da quasi 30 stand 28 stand per esattezza e che fa sì che arricchisce questa manifestazione noi come Proloco ci mettiamo del nostro infatti siamo una squadra di quasi 90 persone coordinati dal direttivo che si adopera per 15 giorni a preparare tutta la logistica tutto l'impianto che serve per poter fare questa manifestazione come è cambiata nel corso degli anni la sagra di Torano nuovo? Che elementi di specificità ha acquisito? La sagra di Torano nel corso degli anni ha mantenuto fede ai propri prodotti il periodo in cui si svolge che poi ogni anno c'è il bel tempo come quest'anno e quindi siamo benedetti dalla Madonna visto che c'è la festa della Madonna poi i prodotti sono rimasti quelli nel tempo ogni anno un ristoratore introduce un piatto nuovo però sempre a base del maiale che poi è la base di tutti i prodotti che vengono preparati qui a Torano noi come Proloco nel corso degli anni mano a mano aggiungiamo quello che il mercato ci richiede infatti quest'anno abbiamo introdotto il numero di concessioni su ogni stand con un codice QR dove con uno smartphone un tablet è possibile accedere al nostro portale dove lì il visitatore trova indicazioni dettagliate sui vari espositori sui vari prodotti e da lì eventualmente può accedere al sito del produttore stesso e vedere la provenienza dei prodotti vedere come questi vengono lavorati uno special sull'evento andrà in onda questa sera nella nostra programmazione alle ore 22 circa CNA e Musi Cultura promuovono ragionare cantando canzoni e canzonette spettacolo che racconta il trentennio musicale dagli anni 80 al 2000 si tratta dell'evento conclusivo di Musi Cultura Marche Tour una serie di eventi che ha toccato le più belle piazze delle marche CNA e Musi Cultura si uniscono per questo appuntamento ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo Sì, abbiamo pensato di rendere regionale questa manifestazione che è un bellissimo evento prima sviluppata solo nella provincia di Macerata abbiamo pensato di rendere partecipi anche tutte le altre province del palcoscenico regionale sponsorizzandolo ovviamente come CNA e Fidi Impresa si tratta di manifestazioni di interesse per quanto riguarda manifestazioni nello specifico sulla musica che unisce un po' tutto quello che è un discorso anche di saper fare che riguarda molto da vicino il mondo artigiano riguarda appunto tutto un approfondimento sull'arte la cultura la musica dei tempi dagli anni 60 in poi è uno svilupparsi proprio consapevole di quello che è una bella manifestazione che porta sempre molte persone che noi siamo lieti di ospitare anche come CNA pensate di replicare magari eventualmente se la manifestazione avrà molto successo per il 2015 sì sicuramente dopo il bel successo avuto il 19 luglio nella tappa san benedettese auspichiamo un'altra bella cornice di pubblico che non può essere senz'altro qui a Piazza del Popolo ad Ascoli per il 15 agosto ovviamente noi ce la mettiamo tutta abbiamo già diffuso su tutti i nostri canali l'evento e speriamo che la cosa possa replicarsi l'anno prossimo come ogni anno Atri torna a celebrare l'antichissimo rito dell'apertura della Porta Santa gli storici locali affermano che il rito della perdonanza triana fu istituita nel 300 da Papa Celestino V la cui madre era originaria di Atri la bolla papale per la Porta Santa Triana però non è mai stata ritrovata pare infatti che il successore di Celestino V Papa Bonifacio V poco dopo il suo insediamento avesse ritirato tutte le bolle precedenti compresa quella per la cattedrale di Atri la bolla aquilana invece è ancora in possesso della città perché Celestino V l'aveva consegnata per la sua custodia al comune dell'Aquila che conserva ancora oggi quel prezioso documento il collegamento tra le due città anche quest'anno viene rafforzato attraverso l'accoglienza della fiaccola della perdonanza proveniente dall'Aquila domani un corteo storico si snoderà da Piazza Ducchi Acquaviva a Piazza del Duomo e andiamo a San Benedetto Francesco Guccini sarà San Benedetto venerdì 22 agosto per presentare il suo ultimo libro nuovo dizionario delle cose perdute il cantatore modenese interverrà alla Palazzina Azzurra a partire dalle ore 18 e 30 nell'ambito della rassegna incontri con l'autore edito da mondatori nel nuovo dizionario Guccini si dedica agli oggetti alle cose passate che hanno accompagnato la vita di generazioni di italiani si tratta del secondo capitolo di un percorso già avviato in una precedente opera l'associazione Podium in collaborazione con l'associazione parrocchiale i canestri e l'archivio di stato di Teramo e con il patrocinio del comune di Santomero organizza dal 14 al 17 agosto la mostra omaggio a San Rocco la mostra è dedicata al compatrono della piccola frazione poggese e raccoglie oggetti santini e documenti legati al santo pellegrino e guaritore la realizzazione è stata curata integralmente dal professore Antonio Iampieri dal 16 al 20 agosto un pezzo di Germania si potrà gustare a San Benedetto del Tronto con la sesta edizione dell'Octoberfest musica spettacoli dal vivo e soprattutto enogastronomia tedesca Quali sono gli appuntamenti principali dell'Octoberfest di 2014? Allora per il 2014 abbiamo organizzato come abitualmente facciamo negli ultimi anni delle serate a tema con prodotti tipici bavaresi che sono diciamo pervenuti dalla Germania proprio questi giorni con stinchetti di maiale viuster tipico di Monaco la salsiccia bianca dei crauti proprio tipici loro con una sorta di pancetta all'interno e inoltre il classico brezen che è praticamente il pane tipico che viene utilizzato all'interno di questa manifestazione e che viene utilizzato abitualmente nella Germania tutta quando vengono fatte queste manifestazioni relative all'Octoberfest l'Octoberfest la si replicherà anche ad Ascoli vero? Sì faremo una manifestazione similare che quest'anno giunge al secondo anno abbiamo iniziato l'anno scorso la prima settimana di settembre quindi il weekend della prima settimana a ridosso diciamo dal 3 al 7 settembre faremo la manifestazione anche lì in Ascoli con diciamo la stessa tipologia di impostazione con le stesse caratteristiche partirà venerdì 22 agosto alle 19 presso il palazzo Cursal di Giulianova Lido l'esposizione di uniformi e copri capo d'epoca dell'arma dei carabinieri dal titolo Carabinieri 200 anni patria onore e fedeltà a cura di Fabio Del Zoppo con il patrocinio del comune di Giulianova che ha reso possibile l'evento grazie alla collaborazione dell'assessore alla cultura Pierangelo Guido Baldi l'allestimento con orario 19.24 ingresso gratuito resterà aperto fino a domenica 24 agosto e vuole essere un tributo alle celebrazioni del 200esimo anno della fondazione dell'arma dei carabinieri l'esposizione vedrà far bella mostra di sé uniformi d'epoca a partire dagli anni 20 agli anni 60 del secolo scorso una parola è troppo due sono poche tre quelle giuste chiama la polizia è Lino Banfi il nonno libero d'Italia a dirlo in coro con i bambini nel terzo spot per la campagna di prevenzione della polizia di stato contro le truffe agli anziani se permette mi presento è il titolo dell'episodio per la regia di Paolo Carrino e sono stati ufficializzati questa mattina i gironi del torneo di serie D che prenderà il via il prossimo 7 settembre l'organico arrivato a quota 166 squadra costretto il dipartimento a formulare due gironi a 20 club quindi con 38 giornate mandando gli altri 7 alla tradizionale quota di 18 società e 34 turni due le soste il 28 dicembre per le festività natalizie e il primo febbraio per l'impegno della rappresentativa al torneo di Viareggio si parte alle 15 fino al 26 ottobre quando le partite prenderanno il via alle 14.30 dal 29 marzo il calcio d'inizio torna alle 15 dal 17 maggio fino al termine della stagione le gare scatteranno alle 16 il giro di Boperi i nuovi geroni avverrà il 4 gennaio con l'ultima giornata del girone d'andata mentre il 10 maggio calerà il sipario sulla stagione regolare questo è il programma della prima giornata del girone F dove sono inserite le formazioni Marchigiane Abruzzese Fano Castelfilardo Amiternia Vispesaro Celano Maceratese Giulianova Recanatese Civitanovese Matelica Iesina Campobasso Fermana San Nicolò Agnonese San Benedettese Termoli Chieti Calabasso Quando la luna la cambia color che è di due la rina di rina quando la luna la cambia color che è di due la rina di rina e è un complazzo io per questo modo e è un complazzo che è un'acqua che è un'acqua che è un'acqua che è un'acqua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora il meteo. Purtroppo abbiamo dei problemi, non abbiamo le previsioni meteo, quindi per questa sera termina così il nostro Tg. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben tornati a questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo dell'Istituto Aeronautico Antonio Rocatelli. Diamo ora uno sguardo alla grafica che ci muove questa situazione generale per quanto riguarda l'Italia. Nella giornata di giovedì avremo bel tempo diffuso su gran parte della nostra penisola, fatta eccezione per qualche nuvola che renderà appunto la giornata variabile per quanto riguarda i settori alto e medio adriatico. Sulle Alpi e prealpi lombardi e venete avremo invece qualche addensamento nuvoloso che potrà portare persino piogge sul Triveneto. Diamo invece ora uno sguardo più approfondito per quanto riguarda Marche d'Abruzzo. Avremo una giornata tipicamente variabile, infatti avremo momenti che si alterneranno a momenti soleggiati e a altri con una copertura nuvolosa più consistente e qualche possibile rovescio per quanto riguarda l'entroterra marchigiano. Diamo ora uno sguardo alle temperature massime che sono in calo rispetto alla giornata di mercoledì, infatti avremo valori massimi previsti di 29-33 gradi. Vi ringraziamo per l'attenzione, da Meteo Locatelli è tutto, al prossimo appuntamento. E con il meteo termine il nostro Tg, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie per la visione!